E' ancora Timber, Timber, fortunatamente Cusero lo fa attraverso la presentazione di questo libro che ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare le coscienze dei cittadini questi spazi che noi abbiamo compreso che nasce nel tentativo di rispondere ad alcune esiste una scuola in sistema che a sua volta diventa apparato e alle imposizioni va a finire che poi ci sia vita Non dimenticate mai che nella vita la cosa importante è agire con la massima coerenza aiutando il prossimo Questi alcuni dei passaggi dell'impegno sociale civile di Luigi Ciotti Raccontare la vita di Luigi e parlare di un noi Cosa siete? Cos'è il partito? Dov'è il partito? Dissolto, non pervenuto Della costa libica alla tramonto e luce spende Destinazione Lampadusa Alle Olimpiadi mancano poco più di tre mesi Dissolto, non pervenuto Umili dei suoi Trovare lavoro per mandare dei soldi a casa Non hanno in mente Le Olimpiadi come Samia non è Non hanno il suo giovane involuto Che già conosce la mondo e visione Ma possedono il medissimo dietro di viaggio Ma raccontare in maniera precisa e puntuale cosa faccia nella vita è difficile Perché le parole a volte sono abiti troppo stretti Nel senso che servono, come a me in questo caso, ad indicare delle categorie E ancora a tiempe E ancora a tiempe Rindo gorge A presto A presto A presto A presto